canta una canzone devi fare good kita in paperese interrompere la lezione per sta stronzata cioè non ho parole tu dove hai messo i punti? non hai tutti i torti sono scemo io che l'ho permesso vuoi le fiume? Lì, la questa è R Nombre, ovvero per favorecere su prestazioni elezionati! a 5 6 6 7 7 8 Grazie per la visione! Sono un idiota, ok? L'avete voluto voi? L'avete voluto voi, sono un idiota!